Scusate se sono polemica, ma sono un po' specializzata in questo. Hanno ascoltato tutti, perché qualsiasi richiesta che noi abbiamo fatto alla Regione di essere ascoltati siamo stati ricevuti, ma quasi uno per uno, come a voler disperdere un pochino questa forza. Quindi noi siamo qua proprio per unirla, questa forza, per non permettere più di essere tanti piccoli gruppetti che fanno finta, insomma, di essere considerati. Dobbiamo unire le forze, stiamo tutti, insomma, patendo questa cosa che è accaduta.